Ristretto italiano. I media internazionali scrivono di noi. Giune di 24. Buongiorno a tutti. L'estate non è finita, anche se so che in molti comincerebbero a desiderarlo ancora prima delle ferie d'agosto. La notizia di cui veramente si parla ovunque nel mondo è quella, a proposito di caldo estremo e di eventi estremi accompagnati a questo caldo estremo, la notizia è quella del tornado in Lombardia di venerdì scorso, lastroni di ghiaccio che nuotano nelle strade mentre queste si trasformano in fiumi. Insomma, le immagini della grandinata di venerdì scorso a Seregno stanno quasi ottenendo più spazio sulla stampa estera che non da noi. Noi sembra che siamo in un qualche modo rassegnati. C'è per esempio il network americano ABC, con tutto che loro con i fenomeni estremici convivono da tempo, ha dato ampio spazio ai filmati che sono giunti dall'Italia e ai video pubblicati sui nostri social. Ci sono stati i vetri delle finestre rotti, gli alberi sradicati, due vittime, nel senso di due morti e centinaia di feriti. Ma ciò che colpisce di più sono quei lastroni di ghiaccio che nuotano nei fiumi, nelle strade. E sempre sul caldo, sul caldo immenso per Roma della settimana scorsa, addirittura da Singapore Straits Times titola i senza tetto di Roma lottano col caldo nelle strade infuocate. Insomma, i 41,8 gradi di martedì della settimana scorsa non sono certo pericolosi per chi vive all'aperto, per di più in condizioni di fragilità, del gelo invernale. Ed è stato così, riferisce Straits Times, ripeto, da Singapore, che Antonio, clochard di mezza età che vive e dorme in una strada nei pressi della Fontana di Trevi, si è improvvisamente svegliato su un'ambulanza dopo essere svenuto sotto il sole e dopo essere stato soccorso. E non a molto servono le bottiglie d'acqua fredda che vengono in questi giorni costantemente distribuite dalla protezione civile. Abbandoniamo il caldo, veniamo all'economia, se ne parla anche d'estate, e si comincia a pensare su chi sarà il sostituto di Fabio Panetta alla BCE ora che da Francoforte Panetta tornerà in Italia per prendere il posto di governatore ora che è Bisco, se ne va. È il Financial Times da Londra che titola Roma si rivolge al veterano della Banca d'Italia per mantenere il posto nella BCE. Posto che non è garantito, come stiamo per vedere. Il veterano di Banca Italia a questo punto è Cipollone. come, non mi ricordo, Piero, Piero Cipollone. Perché? Perché che cosa succede? Fabio Panetta lascerà anzi tempo, la BCE, prima che finisca il suo mandato. E a questo punto sembra quasi una partita di giro. Panetta lascerà Francoforte per venire a Roma a fare il governatore e uno dei massimi dirigenti di Roma, si spera, andrà a Francoforte. Come dice il Financial Times, la voce è qualche cosa di più di un'ipotesi anche se manca l'investitura e mancano ancora dei mesi. Cipollone è il favorito assoluto e il Financial Times ne avrebbe avuto conferma da più di un insider, sia a Roma che a Francoforte. E, come vi dicevo, è un alto funzionario della stessa Banca d'Italia. Però, c'è un però, questo posto, nonostante che la consuetudine sia stata rispettata fino ad ora, non è necessariamente riservato al nostro paese e altri membri della zona euro potranno legalmente presentare un loro candidato. Oltretutto siamo in un periodo di frizioni palesi fra la nostra premier a Meloni e la BCE per le critiche italiane che non solo la Meloni, ma tutto l'establishment del centro-destra rivolge alla politica monetaria di Francoforte. Parliamo ora di trasporti, prendendo la notizia dalla televisione svizzera. Titolo, in Calabria e in Sardegna, i primi treni a idrogeno della Stadler. In Europa, alleggo che sarà un primato assoluto. I treni sono prodotti dalla svizzera Stadler, che ha firmato i contratti di fornitura giovedì scorso a Roma con l'azienda Sardegna dei Trasporti e con le ferrovie della Calabria, perché comunque si tratta di trasporti regionali, di trasporti a scartamento ridotto, treni regionali e suburbani, che però saranno a propulsione ecologica. In tutto arriveranno 25 convogli FLIRT H2. Il valore della commessa non è stato reso noto, ma ciò che si sa è che verranno finanziati nell'ambito del PNRR. Ogni treno, leggo che sarà lungo 50 metri, offrirà 89 posti a sedere per vagone, fino a una capienza massima di 155 passeggeri. Treni che saranno a tutti gli effetti dei pionieri del trasporto sostenibile. Il primo in assoluto a livello mondiale infatti non è ancora partito e dovrebbe fare il suo primo viaggio a San Bernardino in California nel 2024. Riferisce sempre la televisione svizzera che altri contratti stanno per essere firmati sempre dalla Stadler per i tram di Milano e per la metropolitana di Napoli. Finiamo con Miss Italia, ma mica è una cosa da poco. Andiamo in Gran Bretagna, ne parlano praticamente solo in Gran Bretagna, ma ne parlano diverse testate. Prendo Insider, che titola Miss Italia vieta le donne transgender di partecipare. Io pensavo non fosse nemmeno una questione, pensavo non fossero previste. E invece no, perché è successo recentemente che una transgender ha vinto il titolo di Miss Italia di Miss Paesi Bassi, il titolo di Miss Paesi Bassi. E allora Patrizia Mirigliani, che è la patron che ha preso il posto dopo il padre Enzo Mirigliani, ribadisce, sottolinea ancora una volta, che le donne devono essere donne dalla nascita. e vi dicevo una conferma che non sarebbe richiesta se non ci fosse stata questa prima volta al mondo di una donna transgender incoronata nei Paesi Bassi. La Mirigliani ha detto mi sembra tutto un po' assurdo e tra l'altro sottolinea che questa consuetudine di avere solo donne, donne dalla nascita, è stata addirittura scritta nel regolamento degli anni della nascita, quasi che già allora si aspettassero che un giorno gli uomini si sarebbero potuti operare e diventare donne. Ultimamente i concorsi di bellezza, ha detto sempre lei e la Mirigliani, stanno cercando di fare notizia usando anche strategie al limite. L'ha detto lei in un'intervista radiofonica a Radio Cusano e appunto specificando anche che questa norma nel regolamento è sempre esistita. Leggo anche, sempre su Insider, che già una transgender ha partecipato comunque a Miss Universo, perché Miss Universo l'ha comunque confermato che prenderà, accetterà nel suo cast di concorrenti Miss Paesi Bassi. Ma leggo anche che non sarà Miss Paesi Bassi la prima transgender a concorrere per Miss Universo che si terrà quest'anno a El Salvador, in quanto già nel 2018 ha partecipato senza vincere una transgender spagnola. Ed ora sapete tutto. Io qui vi saluto, vi lascio e vi aspetto domani, sempre a questa stessa ora, che è quella che scegliete voi per ascoltare Ristretto Italiano. Buona giornata a tutti! Ristretto Italiano di Ruggero Po